Annullato l'esito del concorso per entrare a far parte della Guardia di Finanza, dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso presentato da uno dei candidati che era stato escluso. Si tratta di un giovane nisseno assistito dallo studio legale Bonetti e Delia, il quale si era visto rifiutare la propria domanda per un tatuaggio che porta vicino al polpaccio. Secondo una iniziale interpretazione del bando, in base a quanto ricostruito dai giudici amministrativi, la candidatura veniva rifiutata se sono presenti tatuaggi o alterazioni fisiche permanenti nella zona sovramalleolare. Ma i legali del giovane nisseno hanno sostenuto nel loro ricorso che il tatuaggio viene coperto dall'uniforme e quindi non viene compromesso il decoro esteriore di chi indossa la divisa grigia delle fiamme gialle. Particolare che i giudici del Tarra hanno condiviso annullando l'esito del bando e ridando dunque la speranza al giovane nisseno di poter entrare a far parte del corpo.